Bentornati su MyFootballJersey. Oggi vediamo la maglia per i prossimi mondiali, quelli in Qatar del 2022, la prima maglia dell'Uruguay in edizione FAN. La collezione Puma propone una reinterpretazione moderna delle classiche divise del passato, proprio come abbiamo visto con l'Italia. La prima maglia dell'Uruguay è come da tradizione celeste, su cui risaltano il colletto bianco chiuso da un bottone. L'orlo delle maniche è in contrasto e il logo Puma con il lettering accanto al felino è di colore oro. Secondo il comunicato ufficiale, la nuova maglia Home onora la generazione d'oro che nel 1924 vinse il titolo olimpico a Parigi. Una curiosità sulle quattro stelle poste sopra lo stemma dell'Uruguay. Le quattro stelle sono date dalla vittoria di due mondiali nel 1930 e nel 1950 e due olimpiadi 1924 e 1928. Non male, questa maglia è secondo me una bella maglia, non delle mie preferite, un pochino semplice, e nella mia classifica questa prende tre stelle. Bello il motivo che c'è sul giro manica, per il resto è una maglia azzurra, quindi voglio dire, a parte il discorso della tradizione, a parte il discorso della nazione, non mi dà un'emozione particolare. Comunque, la maglia è fatta molto bene e i tempi di consegna sono stati velocissimi, è arrivata in 13 giorni, quasi incredibile. Il costo lo vedete qui sopra, vi ricordo che include anche le spese di spedizione. In descrizione, qua in basso, trovate tutti i riferimenti per ordinare la maglia e un link per ottenere un coupon da 5 dollari e quindi poi il costo diminuisce ulteriormente. Ora, prima di lasciarvi la parte in cui vedrete la vestibilità, vi prego di mettere un like e di iscrivervi al canale. Vi ricordo anche di scrivervi nei commenti cosa ne pensate della maglia e, soprattutto, quale altre maglie vorreste vedere in futuro. Per oggi è tutto, ciao! Io sono alto 1,75 m e peso 70 kg circa. Quella che vedete è una taglia media della versione FUN!